Dal 18 al 21 maggio torna ad Ancona tipicità in blu, la rassegna dedicata al mare giunta alla decima edizione, promossa dalle comune d'Orico e dalla Camera di Commercio delle Marche in collaborazione con una nutrita squadra di partner. Un grande festival dedicato all'economia blu e ai contesti ad essa collegati che nel corso degli anni ha affrontato il tema blu nelle sue molteplici sfaccettature, dal turismo alle energie rinnovabili, dalla mobilità alla canteristica, dalla gastronomia ittica alla tutela dei fondali. Il mare rappresenta da sempre un importante punto di riferimento a livello economico per le Marche che garantisce occupazione e offre allo stesso tempo delle vere prelibatezze per la tavola. Inoltre è una grande attrattiva a livello turistico grazie alle bellissime spiagge e alle acque trasparenti, tanto che la nostra regione ogni anno svetta in Italia per il numero di bandiere blu. L'edizione del 2023 di tipicità in blu presenta un ricco cartellone. Giovedì 18 e venerdì 19 maggio si svolgeranno le giornate della blu economy. In particolare si parlerà di nautica e canteristica, sviluppo territoriale costiero e città portuali, sostenibilità e opportunità impreditoriali. Grande attenzione sarà rivolta anche al futuro della pesca e alla sostenibilità ambientale perché l'acqua è un bene prezioso che va preservato al meglio. Nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 invece il festival si aprirà al grande pubblico con un ricchissimo programma di esperienze immersive alla mole vanvitaliana. Giappone, Scozia, Grecia, Spagna, Albania e tante altre esperienze di assaggio e narrazione gastronomica da godere nei cooking talk show. Un villaggio del gusto proporà fritti, arrosti della gastronomia marinara locale, aperitivi gourmet, il prelibato stoccafisso all'Anconitana, vini ribelli e ossia alternative alle classiche denominazioni e una selezione tutta lieviti e fermenti con birracconti. Non mancheranno neppure i personaggi noti della televisione come Beppe Convertini di Linea Verde, Andrea Medei di Decanter, Giovanna Ruo Berchera di Geo & Geo e Michele Romano per il sole 24 ore. Insomma Ancona per quattro giorni sarà ancora una volta la capitale del mare con la mole vanvitaliana selezionata ancora una volta come quartier generale. La nostra regione ha quasi 180 chilometri di coste quindi vive in simbiosi con il mare. Il discorso di Ancona in particolare è importante perché io lo definisco un museo, un percorso a cielo aperto di tutte le possibilità che offre la Blue Economy. Qui troviamo di tutto dalla pesca alla gastronomia di mare ovviamente, ma la cantieristica, la cantieristica del lusso ma anche la grande cantieristica, è hub croceristico, c'è lo sport, la ricerca sul mare, quindi parliamo di sostenibilità ambientale, quindi c'è proprio tutto. Quindi un evento che mette in luce questa vocazione di questa città, non dimentichiamo l'aspetto turistico che è fondamentale e quindi sicuramente ce ne vorrebbero altri di eventi del genere. Ecco, che cosa si devono aspettare i visitatori nei questi tre giorni dopo San Ciriaco, diciamo un altro grande evento che riguarda la città di Ancona? Allora, lo dividiamo in due parti. Nei primi due giorni, giovedì 18 e venerdì 19, abbiamo le giornate della Blue Economy, quindi momenti di approfondimento a contenuto altamente professionale per addetti ai lavori dei vari settori che appunto inglobati nella Blue Economy. Il sabato 20 e domenica 21 invece c'è il festival e quindi aperto al pubblico, si seguita ad approfondire le tematiche del mare ma più rivolto a un pubblico generalista, quindi alle famiglie, ai bambini e avremo degli show cooking internazionali, ci saranno degli chef da Giappone, Spagna, Grecia e Scozia sui temi della sostenibilità ambientale in cucina, del riusso che oggi è tanto sentito. E poi tanti altri eventi tra cui le ormai famose mini crociere che raggiungono Porto Novo, quindi un altro elemento che riguarda il turismo e da non dimenticare la Selly Chef che abbiamo varato da una delle prime edizioni qui ad Ancona dove in una regata, in una veleggiata c'è anche una sfida in cucina, lo chef di bordo si cimenta nella preparazione di un piatto, tutti avranno lo stesso cestino di ingredienti e una qualificata giuria valuterà i loro piatti. Il mare è una risorsa preziosa che deve essere conosciuta meglio e apprezzata per l'enorme ricchezza economica che rappresenta. Lo sanno bene i tanti partner che sostengono le festival come Coppaleanza 3.0, il gruppo Domina Via Vai e ovviamente Viva Servizi, la società partecipata delle comune di Ancona che si occupa tra l'altro della gestione del servizio idrico. Noi siamo veramente grati a Tripicità in Blu perché ci dà la possibilità di cogliere l'opportunità di quanto sia importante oggi contrastare la scarsità della risorsa idrica e ci dà la possibilità anche di parlare di che cosa possiamo e dobbiamo fare per contenere le dispersioni sulla rete e per dare un contributo reale quindi alla creazione di questo mondo più sostenibile. Tra l'altro parlando dell'acqua ci dimentichiamo troppo spesso che l'acqua sia un alimento. Quindi in tipicità parleremo anche dell'acqua come alimento e delle caratteristiche di assoluta qualità dell'acqua che arriva nei rubinetti delle case di cittadini della provincia di Ancona. Anche perché sono quelle più analizzate possiamo dirlo perché voi fate controlli continui per garantire tutto questo. Cioè talvolta si parla dell'acqua del sindaco, l'acqua del rubinetto è l'acqua forse anche la più buona. Sì guardi facciamo più di 11.000 controlli all'anno su oltre 300 parametri, questi con il nostro laboratorio. Poi dopo ci sono gli altri controlli istituzionali dell'ASUR. Ovviamente stiamo aderendo e realizzando un water safety plan insomma come da direttiva europea. Quindi l'acqua è controllatissima e garantiamo con le caratteristiche organolettiche che non hanno nulla da invidiare alle più blasonate acque minerali. Poi bevendo acqua del rubinetto si fa un grande piacere all'ambiente perché evitiamo insomma di utilizzare le acqua in bottiglie di plastica che come sappiamo al nostro mare non danno una grande mano. Tra l'altro diamo anche una buona mano ai nostri risparmi, insomma all'economia delle nostre famiglie perché un metro cubo di acqua costa poco più di 2 euro, di mille litri di acqua. costano quindi poco più di 2 euro e invece tutti sappiamo quanto costa l'acqua che qualcuno di noi ancora va a comprare al supermercato. Come coppe ci avete creduto moltissimo in questo progetto e ogni anno il vostro contributo diventa sempre più importante e sempre più interessante. Sì, certo ci saremo anche quest'anno per sostenere questa iniziativa di tipicità in blu. Ci siamo in particolare con la Sailing Chef che organizza appunto questo evento ma anche nel pomeriggio nel rappresentare quello che per Coppa Alleanza 3.0 è diciamo il prodotto locale, nei punti vendita stanno entrando i prodotti locali quindi territoriali quindi questa riconoscibilità da parte del socio consumatore del venire nei punti vendita ad acquistare un prodotto locale dell'impresa, dell'artigiano, del contadino che si produce questi prodotti. Quindi sarà insomma per noi un inserirsi in questo evento molto importante che è stato da sempre ormai il sesto anno che sosteniamo questa iniziativa proprio perché insomma siamo in condivisione con quelli che sono gli obiettivi di tipicità e quelli che sono appunto gli obiettivi di Coppa Alleanza. Una persona si domanderebbe che cosa centrano le auto con il mare. In realtà l'economia blu riguarda anche la sostenibilità e il vostro marchio, in particolar modo il marchio Audi ha investito e sta investendo molto nelle auto elettriche che rappresentano il futuro, ce lo dice l'Europa ma voi avete già anticipato un pochino i tempi come realtà automobilistica di livello mondiale. Certamente, sicuramente il gruppo Volkswagen di cui noi rappresentiamo qui nelle marche tutti i brand del gruppo Volkswagen investono moltissimo nella sostenibilità e nel futuro green. Pertanto noi sposiamo da anni questa con tipicità, siamo partner e tipicità in blu sicuramente il mare Ancona dove noi abbiamo le nostre sedi principali, sicuramente per noi è un invito che raccogliamo molto volentieri. Tipicità in blu convolgerà tutto il centro di Ancona con i circuiti locali che offriranno speciali menu in blu e aperi blu e interesserà attivamente i luoghi iconici della città strettamente legati al mare e alle sue attività più caratteristiche come la mole vanviteliana e marina d'orica che tornerà ad ospitare Sailing Chef. Tutte le informazioni sul festival sono consultabili anche sul sito www.tipicitàinblu.it 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 www.tipicitàinblu.it